I sostantivi con tema in Omicron Y sono tutti maschili o femminili e derivano storicamente da un originario tema in Omicron D-gamma. Il D-gamma rappresenta un originario suono V, un suono che si era ormai perduto nel greco classico, ma che esisteva nelle fasi precedenti. Il miceneo della lineare B è il greco dell'età prearcaica. Grazie a tutti.